I numeri parlano da sole, raccontano di una realtà preoccupante, oltre 4.000 infortuni sul lavoro, di cui 11 mortali in un anno. La denuncia è della CGL Aretina e pone l'accento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il numero degli infortuni, secondo il sindacato, appare inversamente proporzionale alle assunzioni di personale dell'ASL che si occupa di sicurezza. Tra le tre province, afferma il segretario Alessandro Tracchi, Arezzo è quella in cui si è verificato il maggior numero di infortuni, si tratta anche però della provincia con il maggior numero di imprese e occupati. Secondo Tracchi è critica la carenza di personale ispettivo ASL e INAIL. A rispondere al sindacato è proprio l'azienda sanitaria fornendo dati e numeri. I cantieri controllati al 31 luglio del 2023 erano 466, 166 in provincia di Arezzo. I tecnici della prevenzione in tutta l'azienda sono 188, ne mancherebbero 30 per elevare ancora di più le percentuali dei controlli. Rispetto al piano, al settore edilizia che noi seguiamo come piano regionale, possiamo dire che annualmente copriamo tutto il territorio provinciale e addirittura, se mi riferisco ai dati dell'anno appena trascorso, abbiamo avuto una copertura dell'11% quando la regione toscana richiede il 7%. Il nostro impegno è notevole rispetto al tema, ma soprattutto posso rispondere a questo comunicato dicendo anche che sì, c'è stato un momento in cui il turnover è stato importante come numero perché in effetti sono state assunzioni che risalgono alla riforma del servizio sanitario, a fine anni 70, all'833 in particolare del 78, per cui il grosso dei nostri colleghi sono stati assunti in quegli anni. Fisiologicamente nell'ultimo periodo abbiamo visto un esodo importante di persone ovviamente formate con esperienza di tanti anni. Aggiungiamo però che c'è stato uno sforzo notevole nell'assumere tanti tecnici della prevenzione e ci sono dei servizi che sono proprio diciamo di matrice nuova, cioè di stampo nuovo nel senso che ci sono solo tecnici appena arrivati. Questo però cosa comporta anche da parte di chi è ancora insomma al lavoro diciamo di un'assistenza continua nei confronti di questi ragazzi? C'è un affiancamento perché tra l'altro il settore del PISLE, cioè prevenzione, ingegneria, sicurezza e loghe di lavoro, per poter esercitare a pieno la propria attività essendo ufficiale di polizia giudiziaria devono fare un percorso ben preciso anche per acquisire questa qualifica che fra l'altro è una nomina prefettizia.